Sono arrivato a mandare una lettera di diffida alla regione perché San Zenone è stanca. Io sono stanco, siamo davvero stanchi di non avere risposte dopo l'apertura della Pedemontana. Pedemontana che abbiamo subito, che passa nel nostro territorio e che abbiamo dovuto accollarci nel nostro territorio. La misura è colma per Fabio Marina, sindaco di San Zenone e degli Ezzelini, comune attraversato dalla superstrada Pedemontana-Veneta, ma rimasto all'asciutto di opere compensative. Eppure, sostiene Marina, c'è un accordo di programma sottoscritto nel 2012 che parla tuttora chiaro e che all'epoca aveva convinto il comune a ritirare il contenzioso avviato al TAR proprio sugli interventi di mitigazione. Più di dieci anni fa era previsto il tratto ben più sotto di San Zenone, ma grazie a un accordo di programma è stato deciso che la Pedemontana passasse a San Zenone. In questo accordo di programma erano previste una serie di opere compensative per San Zenone. Vedi ad esempio la riqualificazione di tutto il centro del nostro territorio, vedi la rotatoria che deve essere realizzata all'altezza del municipio. Opere da circa 5 milioni di euro che riguardano anche le frazioni, progetti predisposti con il supporto di Veneto Strade, ma rimasti sulla carta per carenza di fondi. Solo una frase, non ci sono soldi e mai nulla di ufficiale. Da qui la mossa eclatante di Marin, una diffida inviata a Palazzo Balbi da uno studio legale. Dove diamo un tempo massimo, logicamente, per convocare questa conferenza di servizi, altrimenti procederemo ancora per vie legali. Quindi chiederete i danni? Chiederemo i danni, sì. Chiederemo i danni, chiederemo che le opere siano realizzate, perché è questo, ma non è un capriccio di San Zenone. È davvero, San Zenone ormai è martoriata, carainati principalmente è stata martoriata, purtroppo anche da errori che sono stati fatti nella realizzazione di alcune opere attinenti alla Pedemontana. Ma ci sono anche altre due richieste. La prima è integrare il nome del casello di Riese con quello di San Zenone, come indicato fin dal 2011. Secondo, di sicuro più pressante, vista l'inflazione record, la riduzione dei pedaggi, almeno per i residenti. È inutile volere una strada così utile, ma con pedaggi così alti. Le persone, logicamente, fanno fatica a prenderla perché costa troppo. Le aziende ne rimettono, per cui bisogna dare una mano anche su questo, nella riduzione dei pedaggi.